Il studente Mariano Moniz Cardoso ha toccato una relazione alla decisione di università per il processo di aprendiziazionato online. Ma che non è, la decisione si riferisce a lo studente che si sente descontente, ma il governo ha facilito l'internet gratuito per il studente e la situazione di cerca sanitaria. Mariano ha detto che durante il periodo di cerca sanitaria, si era difficile attituire il processo di aprendiziazionato online di Hodiak, ma che si riferisce a lo studente per il internet. Quando è in scola online, noi abbiamo una scuola che si riferisce a lo studente. In scuola online, si riferisce a 100 dollari, si riferisce a lo studente, magari si riferisce a lo studente per il settore. Ma che si riferisce a lo studente, ma che si riferisce a lo studente. Ma che si riferisce a cercare di continuare alla scuola online, ma che si riferisce a sentire avertire a lo studente. In scuola online, ho difficoltà, quando a prenderò, magari ho spiegate, ho scop 그렇게, ho scoperto, magari ho scoperto, in scuola online, ho scoperto, invece i scuola online, ho scoperto, ho scoperto. Non ho scoperto, ho scoperto, ho scoperto, ho scoperto. E' un'accesso che ci sono problemi che ci sono stati di emergencia e ci sono stati di mandato a Miami. Studente Luis da Silva che sono parte competente e facilita internet non si rileva con materia, ma che sia situazione cerca sanitaria. Non ci sono stati studi che sono stati di fronte a livello con i studenti e sono stati studiare in classi online, ci sono stati difficolti di classi online. Università di Hirakdebendorantini implementa la scuola online, ma canessano, UNITL, DIT, UNDIL, NOCELUPTAN. Zenia Fernandes, Dilma Suzeti, ZMN.